Parla tifoso partenopeo. Benvenuti su Notizie di Napoli. Il canale dove trovi le notizie più interessanti e gli approfondimenti sul Napoli. Nelle notizie di oggi esploriamo la nuova strategia del Napoli che punta sui giovani talenti nati nel 2000. Sette che stanno facendo scalpore sulla scena calcistica internazionale. Si parlerà dei profili nel mirino del club e, in particolare, di Conrad Arder, promettente centravanti del Nordsjelland. Restate con noi per scoprire tutto su queste promesse che potrebbero diventare le prossime stelle del Napoli. Il presidente Aurelio de Laurentiis e il DS Giovanni Manna tengono d'occhio i giovani talenti che potrebbero portare grandi benefici al Napoli in futuro. Seguendo gli esempi di successo di club come Lecce e Atalanta, che hanno investito saggiamente sui giovani di prospettiva, il Napoli è alla ricerca di giocatori acquistabili per cifre relativamente basse, ma che abbiano un potenziale di crescita importante, sia in termini di rendimento che di valore di mercato. Tra i vari nomi emersi si è distinto Conrad Arder, centravanti danese appena compiuto 19 anni. Giocando per il Nordsjelland, Arder ha già attirato l'attenzione di molti scout internazionali grazie al suo talento e alle sue prestazioni costanti. Con presenze degne di nota nella squadra Under-19 della Danimarca, Arder dimostra una maturità e un'abilità rare per la sua età. Conrad Arder è noto per la sua capacità di finalizzare con precisione, la sua abilità tecnica e la sua visione del gioco. È un giocatore versatile, capace di giocare in diverse posizioni offensive, il che lo rende una risorsa preziosa per qualsiasi squadra. La sua crescita al Nordsjelland, un club rinomato per gli investimenti e lo sviluppo dei giovani talenti, è stata impressionante. Questa traiettoria positiva non fa che rafforzare l'interesse del Napoli ad assicurarsi il suo acquisto. Oltre a Arder, il Napoli sta monitorando altri giovani nati nel 2007 che hanno dimostrato grandi potenzialità. L'idea è quella di creare una base di talenti che possa integrarsi gradualmente nella prima squadra, fornendo al club un vantaggio competitivo a lungo termine. Questa attenzione alle giovani prospettive non solo aiuta a garantire il futuro del Napoli in termini di talento, ma è anche una strategia finanziariamente intelligente che consente al club di realizzare enormi plusvalenze da futuri trasferimenti. Aurelio De Laurentiis è consapevole che il mercato è volatile e che investire nei giovani talenti può essere un modo per mitigare i rischi finanziari. Identificando e sviluppando giocatori come Arder, il Napoli può costruire una squadra forte e coesa che compete ai massimi livelli, pur mantenendo una sana base finanziaria. Per i tifosi del Napoli, la prospettiva di vedere giovani talenti emergere e svilupparsi nel club è entusiasmante. Giocatori come Arder rappresentano il futuro del Napoli, portando nuova energia e abilità che possono portare la squadra a nuovi traguardi. Questa strategia crea anche un legame più forte tra il club e la fan base, che può seguire l'evoluzione di questi giocatori dai loro primi passi fino a diventare delle stelle. Tuttavia, assumere e sviluppare giovani talenti non è un compito semplice. Richiede una visione chiara, pazienza e un ambiente di supporto che consenta ai giocatori di crescere e svilupparsi pienamente. Il Napoli, sotto la guida di De Laurenti Semanna, sta lavorando per creare questo ambiente, garantendo che ogni giocatore abbia le opportunità e le risorse necessarie per raggiungere il proprio. Pieno potenziale La decisione del Napoli di puntare sui giovani talenti nati nel 2007, come Conrad Arder, è una strategia promettente che potrebbe portare grandi benefici al club in futuro. Investendo in giocatori con un significativo potenziale di crescita, il Napoli non solo garantisce lo sviluppo di una squadra forte e competitiva, ma crea anche una solida base finanziaria. Continueremo a monitorare questo e altri movimenti di mercato, fornendovi tutti gli aggiornamenti e analisi esclusive. Oggi esploriamo la nuova strategia del Napoli che punta sui giovani talenti nati nel 2007, che stanno facendo scalpore sulla scena calcistica internazionale. Parleremo dei profili nel mirino del club, con particolare attenzione a Constantino Scarezzas, promettente trequartista del Genk. Restate con noi per scoprire tutto su queste promesse che potrebbero diventare le prossime stelle del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna tengono d'occhio i giovani talenti che potrebbero portare grandi benefici al Napoli in futuro. Seguendo gli esempi di successo di club come Lecce e Atalanta, che hanno investito saggiamente sui giovani di prospettiva, il Napoli è alla ricerca di giocatori acquistabili per cifre relativamente. Basse, ma che abbiano un potenziale di crescita importante, sia in termini di rendimento che di valore di mercato. Tra i vari nomi emersi si è distinto Constantino Scarezzas, sedicenne trequartista greco. Giocando per il Genk, Scarezzas ha già attirato l'attenzione di molti scout internazionali grazie al suo talento e alle sue prestazioni costanti. Con presenze degne di nota nelle categorie giovanili, Scarezzas dimostra una maturità e un'abilità rare per la sua età. Constantino Scarezzas è noto per la sua capacità di dribblare con precisione, la sua abilità tecnica e la sua visione di gioco. È un giocatore versatile, capace di giocare in vari ruoli a centrocampo e in attacco, il che lo rende una risorsa preziosa per qualsiasi squadra. La sua crescita al Genk, un club rinomato per gli investimenti e lo sviluppo dei giovani talenti, è stata impressionante. Questa traiettoria positiva non fa che rafforzare l'interesse del Napoli ad assicurarsi il suo acquisto. Oltre a Carezzas, il Napoli sta monitorando altri giovani nati nel 2007 che hanno mostrato grandi potenzialità. L'idea è quella di creare una base di talenti che possa integrarsi gradualmente nella prima squadra, fornendo al club un vantaggio competitivo a lungo termine. Questa attenzione alle giovani prospettive non solo aiuta a garantire il futuro del Napoli in termini di talento, ma è anche una strategia finanziariamente intelligente che consente al club di realizzare enormi plusvalenze da futuri trasferimenti. Aurelio De Laurentiis è consapevole che il mercato è volatile e che investire nei giovani talenti può essere un modo per mitigare i rischi finanziari. Identificando e sviluppando giocatori come Carezzas, il Napoli può costruire una squadra forte e coesa che compete ai massimi livelli, pur mantenendo una sana base finanziaria. Per i tifosi del Napoli, la prospettiva di vedere giovani talenti emergere e svilupparsi nel club è entusiasmante. Giocatori come Carezzas rappresentano il futuro del Napoli, portando nuove energie e competenze che possono portare la squadra a nuovi traguardi. Questa strategia crea anche un legame più forte tra il club e la fan base, che può seguire l'evoluzione di questi giocatori dai loro primi passi fino a diventare delle stelle. Tuttavia, assumere e sviluppare giovani talenti non è un compito semplice. Richiede una visione chiara, pazienza e un ambiente di supporto che consenta ai giocatori di crescere e svilupparsi pienamente. Il Napoli, sotto la guida di De Laurentiis e Manna, sta lavorando per creare questo ambiente, garantendo che ogni giocatore abbia le opportunità e le risorse necessarie per raggiungere il proprio. Pieno potenziale Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, è noto per il suo occhio clinico nell'individuare i giovani talenti. Durante la sua permanenza in altri club ha mostrato un'eccezionale capacità di vedere il potenziale nei giocatori che molti altri avrebbero potuto trascurare. Il suo arrivo al Napoli segna un nuovo capitolo nella strategia di sviluppo dei talenti del club, con una rinnovata attenzione alla ricerca e alla crescita dei giovani promettenti. L'arrivo di Manna coincide con una stagione di rinnovamento in casa Napoli. Il club è desideroso di mantenere la sua posizione di rilievo nel calcio italiano ed europeo, e un modo efficace per farlo è attraverso la crescita di giovani giocatori che possano diventare in Futuri pilastri della squadra Con carezza se altri talenti nati nel 2007, il Napoli sta gettando i semi per un futuro luminoso. Il team di scouting del Napoli è stato più attivo che mai, viaggiando in tutta Europa e oltre per individuare i migliori giovani talenti. L'attenzione non è solo sui giocatori che stanno già brillando a livello giovanile, ma anche su quelli che mostrano un potenziale nascosto, che può essere sviluppato con la giusta formazione e guida. Il duro lavoro degli scout e la visione strategica di Manna stanno iniziando a dare i loro frutti. La decisione del Napoli di puntare sui giovani talenti nati nel 2007, come Constantino Scarezas, è una strategia promettente che potrebbe portare grandi benefici al club in futuro. Investendo in giocatori con un significativo potenziale di crescita, il Napoli non solo garantisce lo sviluppo di una squadra forte e competitiva, ma crea anche una solida base finanziaria. Continueremo a monitorare questo e altri movimenti di mercato, fornendovi tutti gli aggiornamenti e analisi esclusive. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale Notizie di Napoli. Per ulteriori notizie sul Napoli. Forza Napoli sempre!